Questo gigante del mare è terrificante. Si potrebbe pensare che sia uscito direttamente dai peggiori scenari di disastro della settima arte. Eppure è realmente esistito e ha vissuto nell'epoca del Mioceano. Il suo istinto predatorio e la sua aggressività lo rendono terribilmente pericoloso. Le sue dimensioni imponenti lo rendono ancora più formidabile. Con una lunghezza di 18 metri pesa circa 50 tonnellate e ha un'apertura della bocca di 2,10 metri. Questo significa che può ingoiare un uomo con una facilità sconcertante. Il Megalodon ha una mascella molto particolare. Se sei abbastanza coraggioso potrai vedere che è dotata di diverse file di denti. Per la precisione 250 lame affilate. Se poi guardi da vicino uno dei suoi denti vedrai che ha una forma triangolare molto appuntita.